bella a tutti ragazzi sono kevin k13 ormai mi sono abituato questo nome dai primamente abbiamo raggiunto 265 views quindi abbiamo superato le 250 oltre a questo volevo ringraziare delle persone che mi seguono da tanto tempo tipo per di non voglio fare nomi dopo se mi scordo qualcuno scrivete nei commenti perché forse mi scordo qualcuno che non scrive mai nei commenti ste cose allora vabbè game bro game bro poi dio pasqui chi altro mio amico e salvatore che ringrazio e prima c'era molta più gente adesso non so che fino ha fatto adesso mi segue poca gente 45 persone e boh non so cosa è successo comunque ragazzi niente se mi se mi aiutate con gli iscritti c'è tipo andata a sponsorizzarmi ste cose mi fate un grande favore perché non è tanto facile fare un iscritto perché i miei cioè io su un canale piccolo i miei video non sono molto guardati quindi è molto difficile fare iscritti quindi se se volete andate a sponsorizzarmi e vi ringrazio tutti quanti ci vediamo al prossimo video